L'altro dov'è? E che ne so, sarà dietro boh? Ok, intanto giriamo lo sguardo a sinistra e vediamo i due Eurofighter Tycoon che hanno avuto l'ordine di scramble quindi in pochissimi minuti i piloti completamente già inbliggiati dentro la sala d'allarme corrono verso i velivoli assistiti dagli specialisti che già hanno mai parte i velivoli e ripeto in pochissimi minuti sono in grado di decollare e raggiungere il bersaglio assegnato in questo caso il bersaglio è la MX in avariera Sì, neanche a metà arrivano andiamo a intercettare Sì, neanche a metà arrivano Sì, neanche a metà arrivano Sì, neanche a metà arrivano Sì, neanche a metà arrivano